Le nostre proposte sono Art Canvas in cotone, Art Canvas in policotone, Art Canvas in poliestere, disponibili in diversi formati. Inoltre disponiamo di due formati di telai in pino, telaio standard con spessore da 1,8 cm e telaio gallery con spessore da 3,8 cm, naturalmente entrambi disponibili in varie misure.